Vela nostra città! Vela nostra città! Vela nostra città! Vela nostra città! Tifosi rosso-blu preoccupati all'esterno di Palazzo di Città hanno manifestato tutta la propria apprezzione, esprimendo il punto di vista sulla questione stadio e perché no, anche sui giochi 2026. Intanto la preoccupazione più importante resta la partita contro il Crotone, ma l'assessore Gianni Azzaro rassicura. L'amministrazione sta lavorando notte e giorno per poter restituire lo stadio per la partita del Crotone entro il 15 ottobre. Noi dal momento in cui abbiamo avuto l'autorizzazione ad entrare in campo per evie naturalmente attività di indagine che giustamente sta facendo la magistratura, abbiamo potuto fare la verifica, quantificare i danni e poter procedere alla realizzazione di un cronoprogramma. L'ultimo sopralluogo compiuto dai tecnici comunali e dall'assessore ai lavori pubblici Cosimo Ciraci avrebbe permesso di aggiornare il cronoprogramma degli interventi necessari alla riapertura dello stadio in tempo per la partita casalinga contro il Crotone, quella appunto del 15 ottobre. È stato già affidato l'incarico alla ditta per il ripristino soprattutto dell'impianto di videoserveglianza, dell'energia elettrica e del piano antincendio. Quindi nei prossimi giorni sta già la ditta operando e faremo di tutto perché comunque questi lavori terminano quanto prima e poter avere poi il collaudo finale e quindi dare la possibilità a tutti i tifosi, compreso il sottoscritto, poter andare allo stadio giorno 15.